La creatività è la fantasia di creare. La creatività è la griglia, ci vuole tanta fantasia. La creatività è la libertà di pensiero e fantasia. La creatività è la capacità di creare cose nuove che non ha mai fatto nessuno. La creatività è guardare il mondo al colore. La creatività è qualcosa di nuovo, innovativo e da realizzare. La creatività è un progetto in cui si esprime la propria fantasia e in cui si crea.